Giornata dell'Unità Nazionale, celebrata presso la caserma Pepe a Campobasso, si è parlato di valori forti, essenziali per il bene dell'Italia, la sua integrità, la sua costituzione, valori importanti da trasmettere alle giovani generazioni. Oggi facciamo questa grande manifestazione che vuole trasmettere anche per i giovani, specialmente per i giovani, i valori che hanno trasmesso i nostri, coloro che sono sacrificati per la nazione, per un ideale di unità e di libertà. Quindi ha un significato veramente importante e soprattutto vuole rappresentare un momento di impegno da parte della stituzione e anche della cittadinanza tutta per riservare i valori di libertà, di dignità e di custodire. Questa manifestazione è diventata un caposaldo, frutto della caparbietà di un ex presidente della Repubblica. Questa giornata è stata valorizzata nel corso del tempo, a partire dal presidente Ciampi e poi via via nel corso degli anni, per questi valori il nostro lino nazionale, la bandiera. Abbiamo anche visto nel corso dell'emergenza pandemica che questi valori hanno avuto un effetto importante, hanno consolidato ulteriormente la nostra comunità nazionale, consentendole di sopportare un momento molto difficile. Grazie. 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 Grazie.